Internet ha cambiato la vita di tutti, soprattutto degli adolescenti, ragazze e ragazzi, per i quali il mondo virtuale è spesso l'unico in cui confrontarsi e relazionarsi con i coetanei, lontano dal controllo degli adulti. Un universo parallelo, popolato da piazze e battaglie altrettanto virtuali, che negli ultimi 25 anni hanno sostituito il mondo esterno. E aiutare i giovani a un uso consapevole della rete non è facile, perché a volte sono proprio gli adulti a non avere gli strumenti per combattere i pericoli dell'iperconnessione, sempre più diffusa tra le nuove generazioni. A confrontarsi sull'argomento e a provare a dare risposte, il giornalista ed esperto di videogiochi Emilio Cozzi e lo psicoterapeuta Matteo Lancini, durante l'incontro organizzato per il Salone del Libro di Torino dal Consiglio regionale del Piemonte, i videogame La favola del futuro, la solitudine di una generazione iperconnessa. La caduta di una certa comunità educante, di un tessuto sociale, la paura del mondo esterno ha fatto sì che abbiamo costruito dei modelli in cui prendiamo il corpo dei bambini e gli facciamo fare tantissime esperienze, tanti incontri, ma non c'è mai la solitudine e non c'è mai l'esperienza del fuori dal contatto con gli altri. Per assurdo, oggi da solo puoi fare delle esperienze fuori dal controllo degli adulti stando tenere chiuso in casa, col corpo a casa. Questa è una novità, non per forza negativa, ma siccome io mi occupo di questo e spesso mi dicono che c'è un eccesso di uso dei videogiochi, che i ragazzi sono sempre chiusi in casa, usano lo smartphone, hanno la testa chinata, bisognerà vedere se siamo pronti a riconsegnargli anche le nostre città e l'ambiente esterno. A farla da padroni nel mondo virtuale sono i videogiochi, diventati motore di economia con un fatturato anno di 130 miliardi di dollari e al tempo stesso fenomeno sociale e nuova forma di narrazione. Pericolosi se fanno perdere il contatto con la realtà, ma con un elevato valore didattico se utilizzati correttamente. I videogiochi in qualche modo rappresentano e raccontano sia aspetti estremamente positivi della nostra società, per esempio la capacità di legarsi, la capacità aggregativa, la capacità di competere in maniera sempre più performante, la capacità di essere digitali. D'altra parte ne rappresentano anche i lati oscuri, per cui attraverso i videogiochi si possono anche in qualche modo produrre delle conseguenze o degli atteggiamenti che sicuramente non sono assolutamente positivi per chi magari esagera, per chi magari abusa del videogioco o per chi magari gli imputa un ruolo che a livello sociale il videogioco non può e non deve avere.